dal lato dal lato dal lato ciao ragazzi grazie di essere qui come oggi oggi voglio fare un video di ear to ear whispering sussurri da ore e stasera dovevo uscire un altro video ero sono di questo maggiore è sera sono circa le 9 e mezza forse anche le 10 ed è mercoledì 16 e fra poco meno di 2 ore sarà il mio compleanno 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 ne compio 27 alcuni mi diranno chiara pensavo nei compiti di 40 altri mi diranno chiara pensavo nei compiti di 16 non so tra l'altro sono fortuna perché domani anche il mio sono libero da scuola quindi mi è andata bene quest'anno diciamo e di solito registro il video per venerdì al giovedì sembra perché mi metto avanti però visto che domani ho deciso di tenermi il giorno libero dopo tantissimo tempo è strano perché è il primo compleanno in cui mi sveglierò nella nuova casa di fianco al mio ragazzo ho avuto un momento e non lo so sono un sacco emozionata di solito non sono così emozionata per il mio compleanno però quest'anno si so già cosa mi ha regalato almeno non so se arriverà per domani però so cosa mi ha regalato perché glielo ho detto io e però non so invece cosa mi ha regalato i miei quindi e penso che dopo le vacanze di Natale mi farò diciamo uno show and tell show and tell show and tell 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 show and tell 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 con tutti i regali di Natale e il compleanno tutti per modo che dire non saranno tanti per me e lo faccio ogni anno questo video e poi è una tradizione e stasera sono molto rilassata perché sono molto stanca ho diciamo cercato di condensare il lavoro di sei giorni in cinque quindi mi sono messa avanti per anche i verdi appunto per tenermi il giorno libero e libero 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 liber ci siamo trasferiti nella nuova casa finalmente nelle storie si vede già un po' di casa la seconda volta ci stanno in casa insomma si vede e perché non sia minimamente completa perché manca un sacco di roba tutta la camera da letto i bagli ce lo sono ancora come la prima ci mancano tantissime cose però c'è il salotto nella sua vuotezza semplicità mi dà un senso di casa stupendo è una situazione pazzesca veramente sentirsi a casa e non sentirsi stretti diciamo dove si vive ed è meraviglioso è meraviglioso è meraviglioso mi sta un po' addormentando ah giusto volevo ringraziarvi ufficialmente per aver raggiunto i 900.000 pasticcini potre essere i 900.000 ho fatto una faccia super creepy è speciale per me questo traguardo ed è speciale soprattutto che ve lo ammetto nel diere perché è il traguardo prima di un traguardone che non sono sicura ancora non raggiungerò mai però insomma la speranza e cioè il traguardo del milione ma non ho mai badato particolarmente ai numeri e tutt'ora in sé non mi interessano non mi definiscono non mi sono mai definita attraverso i miei numeri ma in generale proprio sempre però questo numero rappresenta un secondo me un traguardo in generale per la community l'ho spiegato un po' su Instagram per me questo traguardo è forse brutto a dire però è un po' una rivincita verso tutte le prese in giro che ho subito in questi anni sia online sia di persone di persona 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 ce ne sono state tante ce ne sono ancora tante che ci credetelo però un numero così alto vuol dire che veramente il fenomeno dell'SMR sta prendendo piedi anche in Italia ed essere comunque una delle esponenti principali mi rende estremamente fiera non ve lo nego e anche un po' sotto pressione in realtà non mi sento di rappresentare nessuno minimamente però mi fa piacere insomma che la community stia crescendo che si stiano lasciando tantissimi canali nuovi che è che l'SMR si stia diffondendo sempre di più e stia anche un po' prendendo serietà proprio nella mente della gente nella mente delle aziende perché comunque è importante e stia diventando proprio una tipologia di video e stia diventando fondamentalmente conosciuta tra l'altro per farmi gli auguri dei 900.000 iscritti su Instagram mi ha scritto anche una persona che mi ha abbastanza lasciato non dico suo nome lo so forse le varie piacerebbe piacere anche essere salutata sono state guardando questo video nel caso sa che è lei comunque è una cantante diciamo così anzi è una cantante senza diciamo così e le mando un bacio e mi ha fatto un'impressione incredibile perché cioè oltre a essere veramente una fan abbastanza svegliata e in generale mi ha proprio fatto impressione come effettivamente da YouTube si possa arrivare a qualsiasi persona io non so in realtà chi mi segue e poi è stato stranissimo cioè in generale è stato proprio un a parte la soddisfazione è stato proprio un punto di riflessione ovviamente per me i miei pasticcini valgono tutti uguali e però comunque sono soddisfazioni essere seguiti da persone e che di questi mi lavoro e voi vedete che sto diventando anche un po' rossa perché vi giuro che mi ha veramente emozionato questa cosa quindi volevo ci tenevo semplicemente tanto 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 a ringraziarvi di sostenermi di mandarmi tanto tanto affetto tanto tanto amore e di stimolare sempre la mia creatività con il vostro sostegno anche solo guardando i miei video io so che ci sono tantissime persone sto parlando proprio a te che magari non commentano i miei video non mi hanno mai raggiunto però che provano del serio affetto per me e ringrazio anche voi davvero oltre a chi mettermi piano che commento eccetera perché per me la cosa importante è sapere di poter essere di aiuto e di entrare un po' nella vostra quotidianità e di essere un po' una coccola per voi è è una cosa stranissima però che mi emoziona tanto sempre quando ci penso quando mi fermo a pensarci perché a volte viene tutto un po' spontaneo quindi quando mi ci fermo a pensare è pazzesco è pazzesco il percorso di questo canale mio e ne sono fiera onestamente parlando proprio sono molto fiera quindi grazie ancora ho già deciso quale sarà lo speciale 900.000 ma penso lo registrano nelle vacanze di Natale e arriverà a gennaio non so se spoilerarvelo diciamo che è un format che non avete mai visto sul mio canale e diciamo che non è un format facile da fare in smr diciamo così magari se volete provate a indovinare nei commenti 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 vediamo chi indovina e sì spero riuscirà a farlo perché sarà sicuramente molto complicato però si è deciso che 900.000 sarà quello speciale e per il milione vedremo io ho già in mente uno però devo essere sicura di poterlo fare ma devo essere anche sicura di arrivarci quindi vabbè io 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 culo scrivetemi nei commenti qual è il giorno del vostro compleanno sono curiosa c'è qualcuno che è dato il mio stesso giorno o vicino l'altro giorno andavo parlando con un altro ragazzo che è nato anche l'ovigile natale e abbiamo diciamo riso un po' sul ovviamente si ride c'è uno scherzi riso un po' sulla sfortuna di essere nata a dicembre perché posto il fatto che siamo incredibilmente fortunati di essere in una società in cui si fanno regali 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 per il compleanno per il natale eccetera eccetera posto queste fasi ci limitavamo un po' del fatto che c'è sempre il discorso si ma ti faccio un regalo piccolo per il compleanno perché poi te lo faccio durante il natale invece quando una persona nasce anche novembre per dire che a fine gennaio già non vale il discorso del natale però per chi nasce dicembre è sempre così ed essendo io proprio c'è una settimana dal natale è sempre stato così e quindi nulla mi fa ridere e io ho proposto i miei difetti festeggi al mio compleanno mazzo però prima o poi lo farò fosteggerò un compleanno saltarò dicembre e passerò direttamente domani compierò gli anni che devo compiervi cinque mesi vabbè i miei pensieri strani e quindi vorrei sapere chi di voi condivide questa piccola e docile innocente sfortuna e tra l'altro anche questi tra gli anni col freddo non mi ha mai non mi ha mai piaciuto più di tanto io ho la mia migliore amica migliore amica migliore amica migliore amica migliore amica chi compie gli anni a fine mazzo ed è bellissimo è tipo una delle date più belle per compiere gli anni perché c'è caldo non c'è troppo caldo non ci sono ancora le vacanze quindi tutti sono a casa è veramente top le giornate sono lunghe veramente stupendo sempre invidiato per questa cosa e tra l'altro 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 proprio il giorno del suo compleanno ah il suo compleanno il diciottesimo mi sono innamorata del mio ragazzo diciamo mi sono resa conto di essere innamorata del mio ragazzo quindi è tutto così ma speciale vabbè parlo di tutto e nulla io sto proprio 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 facendo chiacchiere 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 random perché mi piace troppo parlare ear 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 mi piace il microfono per l'altro non ho troppe cose da dirvi sto scoprendo tantissimi canali nuovi smr solo che non mi ricordo il nome che non vi sorprende però veramente mi sorprende sempre la qualità eccessa ma volevo fare invece volevo nominare un canale che è ale smr non mi ricordo se chiama l'estante smr o al smr perdone comunque lui sa che io vi lascio questo canale giù in descrizione perché è bravissimo perché mi segue da un tempo indefinito perché è un ragazzo educato gentile veramente mi trasmette una gentilezza un'educazione una passione un essere bella persona sempre mi ha sempre sottenuto e ha una qualità lillissima è super bravo è molto giovane e nulla ci tenevo ci tengo un po' a farvi sapere che esiste il suo canale perché è molto bravo se la verità e tra l'altro ha fatto un trigger con una come si dice una clessitra ad acqua che io ho cercato da perduto ma non ho trovato comunque non è clessitra perché funziona stupendo cioè che figata quindi quindi nulla seguitelo perché è troppo dolce anche una qualità di luce così mi chiedo come fa cioè io già mi sento mezzo genio riuscire a fare sto smonto che voglio dire potrebbe essere migliorato in mille modi ma non ce lo posso fare devo migliorarlo ma non ce lo posso fare quindi insomma è bravissimo 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 e nulla si vede che sono un po' di buon amore comunque tra l'altro sono anche un po' così perché ho bevuto il caffè dopo pranzo e io non bevo mai caffè e quando dico mai intendo cioè massimo una volta a settimana uno una volta a settimana ma neanche perché di mattina non lo bevo e di pomeriggio oggi avevo un po' un po' impegnativo quindi non lo dovuto vedere se non mi addormentava dal computer e perlomeno l'ho preso tipo alle due e mezza e se prendo il caffè dopo mezzogiorno ma lo sapevo non dormo giusto notte minimo 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 mi addormenterò alle due ma minimo però se ne fregando mai non devo fare male che e non so se voi capite questa cosa tipo è sempre questa mia migliore amica che poi avete visto come modello un sacco di volte lei beve un casino di caffè al giorno non le fanno nulla fa come il caffè a mezzanotte che dorme come un chiro ma se beve il tè dopo le due non dorme quindi insomma dipende da cosa si è abituati 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 il tè 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 Serve, serve. Quindi vi avviso, diciamo così, per chi non lo sapesse che sono su Spotify e su altre piattaforme, tipo forse Apple Music e altre piattaforme del genere. Comunque mi ricordo Spotify, sono su altre due o tre piattaforme, così, e sono anche nei brani di Instagram, tra l'altro anche nei brani di Instagram e YouTube, no, nei brani, sicuramente nei brani che potete vedere come sfondo musicale delle storie di Instagram. E ho appena pubblicato un nuovo album con i brani di luglio e agosto. E a breve dovrei finirlo, mi sa che domani ci dovrò un po', tanto tempo, fra domani, insomma questo weekend, dovrei riuscire a caricare i brani invece di tutto il resto del periodo, quindi settembre, ottobre, novembre, eccetera. E penso li carichero tutti in un album, tutti insieme. Non so, ci sarà anche questo video perché con il sito sito che utilizzano si possono caricare file fondamentalmente di più di 200 MB quindi non più di circa 20 minuti di audio quindi potrei o dividere questo video in due parti o ridurlo a metà vedremo magari potrei anche ridurlo a 20 minuti togliando un po' di chiacchiere inutili tipo queste e quindi nulla cercatemi su Spotify perchè so che a molte persone fa piacere avere questo servizio in più e a me fa piacere darvi questo servizio e mi sento molto figa essere su Spotify molto... boh imprenditrice essere su Spotify non lo saprei e ci fa molto figo essere su Spotify no? vabbè a parte gli scherzi a parte questi deliri dal fatto che il caffè mi sta facendo delirare così direi che abbiamo raggiunto i 40 minuti direi proprio e lo spero ma io so che in realtà avremmo tipo raggiunto i 39 minuti o i 38 o i 37 ovviamente perché non ce la posso fare tra l'altro c'è un silenzio incredibile perché ormai sono le 10 passate e non possono passare le macchine e neanche i motori di Mosca dovrei effettivamente girare più video la sera troppo che un po' mi rompo perché ora se la vorrei passare un po' con il mio ragazzo però stasera c'è il Milan quindi tanto non potevo passare un po' con lui comunque e però è super strano super strano veramente cioè saranno 10 minuti che parlo almeno 10 minuti forse un quarto sarà senza fare tagli ma mai successo? mai? è meraviglioso 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 quindi rilassati con me e chiudi gli occhi rilassati con me e chiudi gli occhi prendi un cucino prendi una tisana prendi il tuo cane il tuo gatto la tua persona cara o un cucino e e mettiti in posizione comoda 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 e rilassati con me e goditi questo incredibile silenzio rilassa il corpo prima di andare a dormire io le spalle ho un po' tesa quindi sto facendo rilassare le spalle ok anche un po' la schiena quindi nulla 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 adesso pensavo di mandarvi direttamente la buonanotte e fare una buonanotte un po' più lunga visto che so che a molti piace la buonanotte lunga 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 una buonanotte lunga 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 io spero che questo tipo di whispering è molto basso, molto rento e da orecchio a orecchio mi abbia fatto impazzire le orecchie mi abbia fatto venire tanti 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 brividini con la testa, il collo, il collo, il collo, le spalle lungo la schiena, le braccia e io penso proprio penso proprio penso proprio penso proprio ma penso proprio 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 si aggiunga allora a abbassar e augurarvi augurare il pasticcino e il pasticcino mio una buona 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 buonanotte 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 sonidor 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 good night good night good night sweet 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 dreams sweet dreams sweet dreams sweet dreams sweet 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 sonor 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 senator buon lui Buongiorno, buongiorno, buongiorno Joyeux rêve Joyeux rêve Joyeux rêve Good night Good night Good night Good night Buonotte miei pasticcini al caffè al caffè nottore sono troppo rilassata e non voglio venire a questo video Buonotte pasticcini miei, grazie di tutto un mega pazzone, tanti pazzoni buonotte pasticcini che le spera non mi sono e non sono troppo rilassata come la pazzone che sposti non mi sono troppo rilassata e sono troppo rilassata